Buongiorno, buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani locali, anche le prime nazionali, a rivedere anche alcuni dei servizi proposti ieri dal Tg6, quest'oggi grande spazio alla politica che vede avvicinarsi la data del 4 marzo, la data delle elezioni politiche, c'è una corsa frenetica per la designazione delle varie candidature, quindi sia sulle testate nazionali sia su quelle locali la politica la farà da padrone. Andiamo a vedere ora le prime pagine del centro e anche del messaggero Abruzzo e della città, quindi nella rassegna delle prime pagine dei quotidiani locali. Qui siamo con l'edizione di Pescara del centro, ecco l'apertura. Ladro assalta due pizzerie del centro, a Pescara ruba e danneggia i locali, ma le telecamere lo riprendono. Ed ecco sotto la testata elezioni d'Alfonso, ora si smarca il governatore, voglio restare in Abruzzo e Forza Italia non ricandida Razzi. Scoppia il caso Leu, Grasso fa fuori gli abruzzesi rivolta contro i paracadutati. Centri commerciali spunta l'atto che rimette in corsa il Megalo 2 e poi il verdetto pilota è Aquilana, la sentenza che disinnesca il Jobs Act. La fotonotizia volontariato Gran Galà con Duccio e 16 associazioni al Porto Allegro di Montesilvano. E poi altri richiami in Viale Muzzi a Pescara, pista ciclabile, residenti pronti alle barricate. Camera di commercio, Angelucci presidente, ecco chi lo ha scelto. La sentenza, super risarcito il calciatore che si fa male. E poi in basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il cuore perduto di Mario Bartoli. Andiamo ora con l'edizione di Chieti Lanciano, vasto l'apertura, dimentica il figlioletto nell'auto. A Lanciano il papà va al lavoro del bimbo di un anno, si accorge un passante. E poi la fotonotizia, fiori e alberi per la bonifica dei veleni di Chieti Scalo, proposta di una ditta al vaglio di Comune e Arta. E poi a Cupello, alunni umiliati, due maestre condannate. A Chieti il distretto Asd tra Crepe e i locali stretti. E poi come abbiamo già visto nell'edizione di Pescara, Camera di Commercio, Angelucci presidente, ecco chi lo ha scelto. Ed ora siamo all'edizione terramana del Centro. Ospedali in 200 vanno in pensione. L'allarme della CISL non bastano i concorsi per coprire tutti i posti. Fotonotizia con lo sport, calcio, dopo Asta anche il DS Repetto se ne va, arriva Federico e prosegue dunque il ribaltone in casa Teramo Calcio. Castelnuovo, ladro ucciso, accuse più gravi al Poliziotto. Terremoto, chi ha cambiato residenza riavrà il contributo. E poi un appello da Roseto, turismo, appello all'unità per tornare grandi. Infine l'edizione aquilana del Centro alla Marelli si sciopera di notte. Sul Mona scoppia la protesta degli operai. Basta con gli straordinari. E poi la fotonotizia ad un anno dalla tragedia di Campo Felice. Un cippo sulla montagna per le sei vittime dell'elicottero. E poi a Canistro due giovani inventano il chat robot. A Sul Mona, assenteismo, i dipendenti prosciolti, finita l'ingiustizia. E poi l'Aquila, scuola lavoro, studenti cronisti al liceo Cotugno con il centro. E passiamo al messaggero Abruzzo. Vediamo l'apertura dedicata appunto alla politica al voto tra veleni e dimissioni. I paracadutati di Leu lascia l'incarico del segretario di Teramo. Accuse nero su bianco a grasso. Sul fronte Dem si cura soltanto la triade D'Alfonso, D'Alessandro e Pezzopane. Trattative frenetiche. Vediamo poi sotto la testata l'Aquila, cinesi interessati a mettere le mani sul complesso. Reis Romoli a Chieti, gestione dello stadio, condannato ex amministratore della squadra. E per il calcio Pescara, Zampano da Oddo, arriva Macin dalla Guinea. Il doppio ex di cara contro il Perugia, la gara verità per i playoff. Teramo ancora in stand by il divorzio tra Campitelli e il DS Repetto. E andiamo di spalla, ecco qui captazioni idriche del Gran Sasso. L'area di tutela è troppo ristretta. Gli ecologisti hanno studiato per anni il problema. La zona va estesa. E poi la fotonotizia, eccola qui. La crociata anti biciclette. No alla pista ciclabile in via Lemuzzi a Pescara. E sempre in taglio medio, leggiamo, dava fastidio agli studenti messo in un'aula da solo. A Teramo, la mamma, mio figlio è stato isolato senza dirmi nulla. E poi in basso l'analisi, il caro pedaggi aiuti di Stato. Nell'analisi del collega Stefano Cianciotta. E vediamo ora la prima pagina della città. L'apertura tamponata. Un mese muore un mese dopo. Non era uscita indenne, ma è tornata in ospedale con una emorregia cerebrale. Aperta l'inchiesta. E poi sotto la testata non chiuderà dietro a fronte del commissario sul Palasca. Il Palasca Priano di Teramo. E poi la fotonotizia, incrocio pericoloso, tre feriti nello scanto tra un bus e un SUV nel centro città di Teramo. E poi di spalla, candidatura saltata, altro che ripensamento, Mastro Mauro fatto fuori dai Big di Roma. E poi scendiamo in basso, ecco qui Teramo ha risolto il caso dei 70 contributi, sisma sospesi. Quarto lotto, scelto il tracciato sud, costerà meno per spropie bonifiche, un ponte in via Cupa. Poi sempre per la politica, un'inominale, candidatura e altra fumata nera in casa PD. Scendiamo e vediamo anche lo sport, Teramo calcio, Federico in stand by per Repetto. E poi la nuova guida, gelaterie nel top del Gambero Rosso, sono cinque quelle Teramane. Lasciamo per ora i quotidiani locali, dopo aver visto le prime pagine di centro Messaggero e la città. Spostiamoci sul fronte dei quotidiani nazionali, vedendo anche in questo caso le prime pagine. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump, siamo appunto all'apertura, Trump alla battaglia dei Dazi. Freno all'import di pannelli sonari e lavatrici protestano Pechino e Seul. al vertice di Davos, i grandi contestano il protezionismo, il premier indiano è una minaccia. E poi vediamo sotto la testata, i vincoli dell'Unione Europea dividono Salvini e Berlusconi e Grillo lancia il suo blog senza i 5 stelle. In basso siamo alla fotonotizia, sorpresa guadagnino, corre per 4 Oscar, chiamami col tuo nome, in lizza come miglior film. Avanti con Repubblica, ecco l'apertura, ancora la politica, elezioni. Grillo lascia il blog Movimento 5 Stelle, cambia il sito, senza politica né casaleggio. Di Maio non è un parricidio, ora avanti da soli. Europa, pensioni, lavoro, così si dividono Berlusconi e Salvini. Il PD candida Boschi a Trento. E poi la fotonotizia dalle lavatrici all'acciaio, i dazzi di Trump scaldano Davos. Scendiamo in basso il reportage, i grob totter dei concorsi che sognano il posto fisso, notte in bus da Napoli a Parma. Siamo ora al fatto quotidiano, ecco l'apertura, Salvini si fa un'altra lega, il leader vuole liberarsi del vecchio carroccio per non dover pagare i debiti. Ed è una furbata come scrive appunto il fatto quotidiano, lo slalom dell'altro Matteo tra rischi di sequestri e condanne pecuniarie. Dal cambio del nome, lega per Salvini Premier, alla protezione dei proventi del 2x1000, il piano del segretario per smarcarsi dall'ingombrante passato. Sotto la testata, nuovi guai per Babbo Tiziano Marroni dalle sue email ai PM. Terza testimonianza dell'ex AD che ha confermato tutto. Poi le urne dei giudici, CSM Davigo ha deciso, sarà candidato. Andiamo avanti e siamo alla prima pagina di Libero. Gli astenuti spiegano perché non votano. Analisi sul rifiuto delle urne. Disgustati, disorientati, furiosi oppure indifferenti. Il più grande sondaggio su chi diserta i seggi da 5 anni o più. Messaggio ai politici, il problema siete voi ma un elettore su due è recuperabile. Poi in basso la fotonotizia con Michele Santoro, Santoro disinibito, Berlusconi, vecchio saggio. E poi sotto la fotonotizia leggiamo a Napoli si campa 4 anni di meno. Colpa della peggiore sanità d'Europa e non solo. Avanti con il messaggero e siamo all'apertura. Ecco qui l'Europa divide il centro-destra. Il PPE garantisce Berlusconi. Scontro tra Salvini e Forza Italia sul tetto al deficit del 3%. Per il Lazio avanza Parisi. L'intervista Weber con Silvio. Certezza di europeismo nella coalizione. E poi lo sport sotto la testata. I recuperi Roma con la Samp. Gieco sul mercato. Turba di Francesco. Lazio c'è l'Udinese. E poi vince la linea Lotito. Il ritorno di Tavecchio dopo il flop alla Federcalcio. Verso la presidenza della Lega di Serie A. E poi ancora siamo alla fotonotizia. Trump apre la guerra dei Dazi. Da Davos no al protezionismo. Russia Gate. Mueller vuole interrogare il presidente. Poi la cronaca in taglio medio. Bimba molestata. La madre sapeva ma non denunciò a Cassino dopo il suicidio del padre. Nelle carte affiorano dubbi degli inquirenti. Caso in procura. Poi in basso l'eredità Gucci. La madre novantenne di Patrizia Reggiani va fatta interdire. Siamo ora alla prima pagina del tempo. Ancora la politica. L'album delle figuracce. Nel Lazio scende in campo Parisi. Centrodestra in confusione totale. Entra l'ex candidato sindaco di Milano. Partita folle. Mercato al ribasso. Sostituzioni senza senso di candidati. La tattica di mister Pirozzi farà perdere. Metafora calcistica per le candidature. In particolare nella regione Lazio. Qui i vari candidati che sono raffigurati appunto con lo standard delle figurine. Tra gli altri vediamo Guido Bertolaso, l'ex capo della protezione civile. Il noto giornalista televisivo Paolo Liguori. Anche il giornalista Nicola Porro e altri ancora. Vediamo in basso Nuotopoli. Nessun colpevole. La Corte dei Conti archivia i mondiali 2009. Il danno c'è ma non si può perseguire. La stampa. Ecco l'apertura. Lega Movimento 5 Stelle. La tentazione di Di Maio. Litte tra Salvini e Berlusconi sull'Europa. E Grillo si riprende il suo blog. Cerco l'utopia. Nel PD scoppia la polemica per le candidature. Orlando si appella a Gentiloni. Renzi deve rispettare le quote. E poi la fotonotizia Oscar Guadagnino alla conquista dell'America. Il film Chiamami con il tuo nome ottiene quattro nomination nelle categorie principali. Ora siamo sul sole 24 ore. Nuovi dazi contro l'Asia. La sfida di Trump a Davos. Le misure per ora colpiscono Pechino e Seul. Il Giappone annuncia area di libero scambio tra 11 paesi del Pacifico. Ma senza gli Stati Uniti. E poi criptovalute. Bitcoin. L'Unione Europea sollecita i 28. Subito le regole antiriciclaggio. A Roma la procura indaga su OneCoin. Poi in taglio medio. Il lavoro si trova all'asta sul web. Professionisti, artigiani e freelance. In gara online per le commesse. Il crowd work. Nuova frontiera della sharing economy. Per ora senza regole. Siamo sulla prima pagina del giornale. Accoglieremo pure chi scappa dal caldo. Ci mancava il migrante climatico. Così l'Unione Europea dà la rifugio a un miliardo di disperati. Don truffa si fa la casa con i fondi per i profughi. Poi Grillo in ritirata. Molla il Movimento 5 Stelle. Apre uno suo blog. Di Maio annuncia avanti da soli. E poi le due fotonotizie. Eccole qui in prima pagina. Il Cavaliere è saggio. Anche Santoro si converte. Poi la Littizetto è volgare. L'ira dei genitori sulla Rai. E a proposito di Berlusconi. Berlusconi convince l'Europa. Ecco i numeri della flat tax. Mentre Salvini candida i no euro. La verità. Il governo non muove un dito. Niente rimborsi. Per lo scippotari. La tassa sui rifiuti per anni è stata gonfiata. Anche del 50% da moltissimi comuni. Sono soldi che dovevano essere restituiti ai cittadini. Ma nessuno ha fatto nulla. E nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà tra 12 mesi. La fotonotizia. Claudio Borghi. Il professor no euro a Siena. Sfida Paduan. Su MPS. Madre di tutte le banche marcite. E poi in taglio medio. Studenti in gita nei centri d'accoglienza. Accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i Comuni. per far conoscere e rispettare gli immigrati. Proseguiamo ancora con il mattino. Ecco l'apertura. Grillo e Salvini. Strappi populisti. Il divorzio online. del comico dei 5 Stelle. Deficit e leghista. Deficit e leghista. Attacca Berlusconi. Il fondatore del Movimento 5 Stelle lancia un blog. Di maio avanti da soli. Il carroccio. Il tetto del 3% ci danneggia. Sfondiamolo. E poi ancora il manifesto. O sole mio. E il titolo d'apertura. Con un'immagine del Presidente degli Stati Uniti. Trump. Trump anticinese. Torna all'American First. E annuncia darsi del 30% sulle importazioni di pannelli solari. Con il nuovo protezionismo e guerra commerciale. Anche alle lavatrici dell'alleata Corea del Sud. Spinta così tra le braccia della Cina. Da Pechino e Seul. L'appello al WTO. Proseguiamo. Andiamo verso la parte finale. Di questa nostra rassegna. Delle prime pagine. Dei quotidiani locali. Siamo ora sull'avvenire. Che apre così. La guerra dei Dazi. Trump va a Davos. Con chiusure per Cina e Corea. Ecco le barriere protezionistiche alzate nel mondo. Nel mirino lavatrice e pannelli solari di Pechino e Seul. Proteste. I paesi dell'accordo transpacifico. Avanti sul libero scambio. Senza gli Stati Uniti. E poi. Il dovere della memoria. Segre. Noi come i migranti. Shoah Boldrini contro Facebook. Via le pagine infamanti. Lasciamo i quotidiani nazionali. Torniamo ai locali. Siamo a pagina 2 del centro. Ecco qui l'atto che rimette in pista Megalò 2. A Chieti. A 40 giorni della protesta ambientalista. Il genio civile ribalta il verdetto. L'impresa ha eseguito gli interventi ordinati. Il vero nome è Mirò. 24 mila metri quadrati a ridosso del fiume. Pescara bloccati due volte dal comitato via della regione su cui pende un ricorso al Tar. Poi ancora in basso di fida per i veleni ex Montecatini. Piano d'orta il ministero ordina la proprietà di abbattere la fabbrica in rovina. E andiamo ora a pagina 3 verso il voto del 4 marzo. D'Alfonso svela. Voglio rimanere governatore. Candidatura blindata al Senato ma il presidente della regione si smarca e dichiara. Ho un invito pressante dal PD. Accetterò solo ad una condizione. Poi in basso l'EU è rivolta in Abruzzo. Candidatura è il partito contro i paracadutati da Roma. I paracadutati sono appunto nella foto. Celeste Costantino che ha origini calabresi. E poi Danilo Leva che ha invece origini molisane. 39enne appunto molisano. Celeste Costantino 38enne di origine calabrese. E poi leggiamo di lato Salvini schiera in Abruzzo Bagnai, il prof anti-euro, docente all'Università d'Annunzio. Proseguiamo e andiamo sulla pagina Abruzzo. Eccola qui, pagina 10, la sentenza pilota. Così i giudici aquilani disinnescano il Jobs Act. Lavoratrice teatina, licenziata ingiustamente, vince il ricorso anche in appello. È il primo caso in cui è stata riconosciuta anche l'area integra nel posto di lavoro. E qui vediamo alcuni dei padronisti della vicenda. Il legale della lavoratrice Marco Bologna e il legale del datore di lavoro Valerio Speziale. E poi c'è la proposta salvaposto. Maestre a rischio in Abruzzo. L'esercito sfiora quota 3.500. E siamo alle pagine di Pescara. La cronaca doppio colpo nelle pizzerie del centro. Ladro ruba nella notte prima la cassa di Maruzella e poi i soldi della birreria del Corso. Ma le telecamere lo riprendono. Ecco qui, mentre il ladro è in azione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza all'interno dei locali. E poi quello che rimane dell'ingresso della pizzeria Maruzella. Qui abbiamo le due foto. Da una parte Massimiliano Pisani della birreria del Corso e da quest'altra Andrea De Luca della pizzeria Maruzella. Proseguiamo. Siamo a pagina 13. Lavori a Pescara Vecchia. Scattala di Fidal Comune. L'associazione Carrozzine determinate a protesta contro la nuova pavimentazione San Pietrini inaccessibili ai disabili. La replica di Blasioli. Ora verificheremo. E poi, sempre per la questione lavori, ecco qui in via Tirino, le opere contro gli allagamenti. E su questi lavori, in particolare, abbiamo ascoltato il vice sindaco di Pescara, Blasioli. Questo è l'importo ribassato che è stata vinta dall'Astra, società che si occupa appunto di questo tipo di lavoro. La società di Termoli che opererà con una subappaltatrice sul territorio. 150 giorni è il tempo delle lavorazioni, con le lavorazioni che sono iniziate questa mattina e che riguardano appunto il secondo lotto dei lavori degli antiallagamenti di San Donato e Via Tirino. Quindi Via Tirino, Via Collecarullo, Via San Donato, insomma, sono tutte queste strade che con le forti piogge, diciamo, erano soggette a degli allagamenti. Io voglio precisare che questo è il secondo grande lavoro sugli antiallagamenti. Dopo, diciamo, la riviera sud abbiamo appunto la zona di Via Tirino. Questo è il secondo lotto di questi lavori, 387 mila euro, che si sommano ai 350 mila euro precedenti. Se prima abbiamo realizzato l'impianto di sollevamento, adesso andiamo a realizzare le condotte, che provocheranno sicuramente un po' di disagi anche per la circolazione stradale, ma che intendiamo naturalmente chiedere pazienza ai cittadini, perché questo risolverà un problema veramente importante di questa zona, che è quello degli antiallagamenti appunto. Sei ettari è la parte complessiva in cui andremo ad incidere e su questi sei ettari, due ettari circa, sono quelli di superfici non impermeabilizzanti. Quindi è importante, diciamo, questo tipo di intervento, è uno degli interventi più importanti per gli allargamenti nella città di Pescara. Qual è l'importanza di questi lavori che riguarderanno Via Tirino? I lavori sono molto importanti perché la zona negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo molto grande di abitazioni, di nuove, molte persone che sono venute a abitare appunto in questo territorio e adesso purtroppo questa urbanizzazione molto spinta ha fatto sì che i sottoservizi non erano adeguati. Quindi fin dall'inizio di questa amministrazione è stata posta priorità appunto agli allargamenti e quindi noi con questi lavori speriamo di risolvere definitivamente il problema che colpisce molti cittadini. Sempre a Pescara, aula deserta, il mercatino salta di nuovo, manca il numero legale in consiglio per le assenze nella maggioranza. Alessandrini, ma non è grave. Proseguiamo sempre sulle pagine di Pescara. I lavori per la pista ciclabile, Via Lemuzzi sale la protesta. Siamo pronti alle barricate. Residenti e commercianti vogliono bloccare il cantiere. Da ieri le transenne e poi in basso quelli del sì, in bici si può fare anche la spesa. Solo a Pescara c'è tanta ostilità contro le due ruote, però adesso sistemassero anche gli stalli. Poi ancora, dopo esposti e raccolte firme, ieri prima manifestazione di chi è contrario al percorso per le due ruote. L'intervento comincerà lunedì, i cittadini chiedono di sistemare prima i tratti ciclabili rovinati. E poi ancora, a giugno, 500 biciclette per attivare il bike sharing civitarese. Il progetto di Via Lemuzzi non è contro qualcuno. Sì alla città sostenibile. Sono in corso di realizzazione 2.300 metri di piste ciclabili, subito dopo altri 5.000. Più tardi torneremo anche con un servizio su questa vicenda. Proseguiamo intanto sul centro. Il calciatore che si fa male ha diritto al risarcimento. Sentenza del giudice di pace riconosce un indennizzo di quasi 1.000 euro a uno giocatore della Lega Dilettanti. L'assicurazione condannata a pagare. E poi, in taglio medio, BCC stoppa al processo. Gli atti al PM. Il giudice monocratico si dichiara incompetente. Il presidente Borgia, unico imputato. E poi ancora in basso, omicidio Jennifer. Oggi la sentenza. Rito abbreviato per Davide Troilo. Per il perito era in sé quando uccise la ex. Proseguiamo. I residenti di via di sotto viviamo nel degrado. I proprietari degli appartamenti dell'impresa GMG tornano a protestare. Negozi e parcheggi abbandonati. I lavori previsti non sono mai stati completati. E qui vediamo alcuni dei residenti che hanno espresso il loro disagio. Hanno fatto questa denuncia. In basso, telecamere in via Rigopiano. Residenti preoccupati. Anche croci sulle porte. La polizia intensifica i controlli. Siamo a Francavilla. Palazzo Municipale apre il cantiere dei lavori anti-sisma. Entro poche settimane il via alle opere di ristrutturazione per mettere in sicurezza la sede del COC. Sono in programma interventi per 3 milioni di euro che coinvolgeranno tutto l'edificio con spostamenti provvisori degli uffici che saranno preventivamente comunicati agli utenti. Siamo alla pagina di Montesilvano. Blitz con i cani antidroga. Spaccio sulla rivera. Presi 3 nigeriani. I carabinieri assistono al passaggio della droga ad alcuni clienti e trovano hashish marijuana e 915 euro in contanti. A tal proposito, le proposte del comitato. Marco Forconi sollecita un gruppo antidegrado, più telecamere sul lungomare e un contatto tra cittadini e vigili urbani. La reazione anche politica. Cozzi, operazione importante per la sicurezza della città. L'assessore applaude alla collaborazione con le forze dell'ordine. Bilancio dell'assessore alla Polizia Municipale dopo un anno di attività dallo sgombero di via Ariosto allo Sprar. Poi in basso, mostra dei presepi con il cuore a Rigopiano. Saranno donati al comitato vittime i proventi raccolti durante la undicesima rassegna della natività artistica. Siamo sempre a Montesilvano. Ferrante, Casogaia, vittoria parziale. Il presidente di carrozzine determinate critiche alla decisione della giunta di Pescara. Non garantiti tutti i ragazzi disabili. Avanti ancora e siamo a Penne, liceo artistico, lavori di messa in sicurezza per 850 mila euro. Oggi l'apertura del cantiere di ristrutturazione del Mario Giardini affidato a una ditta di Afragola in provincia di Napoli. Siamo alle pagine aquilane e viene ricordata la tragedia di Campo Felice dello scorso anno. Quegli angeli del soccorso sconfitti dalla nebbia sui monti di Campo Felice. Il nostro viaggio insieme al dottor Scarsella l'anno scorso partì subito con l'ambulanza. Speravo di trovarli ancora vivi. Oggi nel punto esatto in cui l'elicottero si schiantò c'è un fontanile su una targa in pietra. I nomi delle vittime che vediamo qui. Walter Bucci, Giuseppe Serpetti, Mario Matrella, Davide De Carolis. Poi ancora la pagina successiva, sempre continuando a parlare della tragedia, le altre vittime, Gianmarco Zavoli, Ettore Palanca. Poi Bianchi, fui io il primo a sapere dell'incidente, il dirigente responsabile del 118 a distanza di 12 mesi. Le emozioni sono fortissime e in tutti noi si rinnovano lo sconcerto e l'amarezza per la scomparsa dei colleghi. Ho avvertito immediatamente il direttore dell'ASL, Tordera, e mi sono precipitato all'Aquila, dove era stata allestita una unità di crisi. Da qui ho seguito le operazioni di recupero avvenute in via terra a causa della nebbia e della neve, che hanno impedito l'intervento di altri mezzi aerei. Questo appunto nel racconto, nella testimonianza di Gino Bianchi, dirigente responsabile del 118 Aquilano. Proseguiamo con le pagine di Chieti e Teramo prima di andare in pubblicità. Ecco qui la pagina di Chieti, siamo in particolare a Lanciano, dimentica il figlio in auto e va al lavoro. Una tragedia sfiorata, passante si accorge del bimbo di un anno e chiama i carabinieri, il papà doveva portarlo in asilo e invece è andato in ufficio. E poi in basso a Cupello umiliarono gli alunni condannate, inflitte pene di tre anni e nove mesi a due insegnanti che sgridavano gli studenti. E poi in basso sei gruppi schierati a sostegno di Angelucci, Camera di Commercio Chieti Pescara, Fronte Comune di Confcommercio, Confesercenti e CNA. E infine, come detto alla pagina di Teramo, la sparatoria di Castelnuovo, ladro in fuga, ucciso. L'accusa al poliziotto diventa più grave nelle indagini bis chieste dal giudice. Cambia l'ipotesi di reato per l'agente della squadra volante. Dall'omicidio colposo si passa al preterintenzionale, tempi brevi per chiudere l'inchiesta. E poi in basso, scontro fra due tir sull'A24, un autista rimane incastrato. E poi a Campotosto slitta il piano d'emergenza. La regione rinvia l'approvazione per approfondire le richieste dei sindaci. Si farà un tavolo tecnico. È il momento di fermarci, spazio alle previsioni del tempo, alla pubblicità. E poi ci ritroviamo con la seconda parte di mattino 6 e sfoglieremo le pagine del messaggero e della città. Di nuovo, buongiorno, è la seconda parte di mattino 6. Riprendiamo con il messaggero Abruzzo e riprendiamo con la pagina dedicata alla politica. Urne agitate, scrive il messaggero. L'EU, lettere d'accusa e dimissioni contro i paracadutati. Il segretario provinciale di Teramo ha rinunciato all'incarico per protesta. Durissimo documento dei vertici. Operazione per posizioni di prestigio. Poi ancora altri documenti firmati dalla sinistra giovanile e perfino dai comitati studenteschi. Poi ancora, sempre sul versante delle prossime elezioni, D'Alfonso, D'Alessandro e Pezzopane, la triade sul fronte partito democratico. In basso, abbiamo già visto in prima pagina, caro Pedaggi, un errore il finanziamento pubblico, nell'articolo di Stefano Cianciotta. E proseguiamo, siamo alla pagina di Pescara, Viale Muzzi, parte la crociata anti-bici. I gruppi del centrodestra al fianco di residenti e commercianti nella battaglia contro la pista ciclabile in costruzione da ieri. Le voci della protesta. Questa strada sarà un budello. Saremmo costretti a chiudere impossibile la sosta per acquisti veloci. L'assessore civitarese respinge le accuse di aver favorito una parte dei negozianti. Mai esistito un progetto alternativo. Bus elettrici sulla strada parco e mezzi a due ruote sul marciapiede tra le alternative proposte. Allora, vediamo il servizio realizzato ieri dal Tg6 su questa manifestazione in Viale Muzzi. Commercianti di Viale Muzzi sulle piede di guerra per il progetto del comune di Pescara di realizzare una pista ciclabile nell'importante arteria viaria del centro cittadino. Per far posto alla pista per le biciclette lungo la strada dovrebbero essere eliminati 30 posti auto. Gli esercenti non ci stanno e chiedono di essere salvaguardati. Togliere la possibilità agli utenti di fermarsi solo per qualche minuto. Difatti io ritengo che la possibilità di fare un pit stop per ritirare un farmaco, per prendere un caffè o per ritirare un pantalone in sartoria siano delle prerogative utili e indispensabili per chi va in giro con un mezzo. Levare questa possibilità penalizzerebbe sicuramente a livello commerciale moltissimo questa via. Questa pista ciclabile è invece un pezzo ideologico di sinistra perché è realizzata in una strada ad alta densità di mobilità, un asse principale, non serve a nulla se non a rendere ancora più difficoltosa la mobilità delle macchine che si troveranno anche l'insicurezza del cordolo della pista ciclabile che gli corre a fianco. Gli autobus percorrono questa strada, i mezzi di sicurezza percorrono questa strada. Cioè è una pista ciclabile pensata male, realizzata peggio a costi altissimi. È un atteggiamento dell'assessore cipitarese che è notoriamente una persona non eletto da nessuno che probabilmente ha una condotta di vita che gli può permettere di girare con la biciclettina a tutte le ore del giorno e che non si rende conto che invece ci sono vie su cui un'opera positiva, ovvero la pista ciclabile, diventerà solo un grande rischio, oltre che un grande disagio per residenti, cittadini, commercianti ed avventori. I lavori per la realizzazione della pista ciclabile su Via Lemuzzi non sono nati contro qualcuno ma per rendere più sostenibile la città e condivisi con la comunità sin dalla presentazione del progetto, ha replicato l'assessore cipitarese in una nota. Limitare l'utilizzo dell'automobile non equivale a morte sociale, né a ghettizzazione, né a declassamento dei luoghi e degli affari, ha concluso l'assessore alla mobilità, che sembra voler tirare dritto per la sua strada. Il piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Pescara affissa l'obiettivo di giungere entro il 2027 a mezzo metro di pista ciclabile per cittadino, quindi a 60 chilometri. Ad oggi il capoluogo adriatico ha 28.398 metri lineari di piste ciclabili, a cui si aggiungeranno ulteriori 8.239 metri da realizzare. Sempre sul messaggero cuore, i successi del bisturi pescarese, il cardiochirurgo Carlo Canosa al timone del centro della Cattolica a Campobasso, tra i migliori d'Italia. Proseguiamo, la preghiera per gli ultimi unisce i cristiani, cattolici, ortodossi e protestanti, una serata ecumenica alla stazione conclusa con la cena servita ai senza tetto. Carità e solidarietà, le parole d'ordine. Se facciamo del bene siamo le mani del Signore, dice il poper romeno Iarca Alin. Poi in basso Nuova Pescara, Montesivano verso il No. Oggi il Consiglio, si apre la serie dei consigli comunali chiamati a esprimere un parere sulla legge, domani tocca a Spoltore e Pescara. Poi in basso con i piccoli indiani di Agatha Christie, la stagione teatrale si tinge di giallo. Oggi e domani al Circus di Pescara, l'adattamento del romanzo curato da Gianluca Ramazzotti e Riccardo Reguan. Torna il finale originale. Proseguiamo, siamo sempre nel Pescarese, siamo a Montesivano. I pusher di via Ariosto tornano in azione. A otto mesi dallo sgombero del quartiere Ghetto, arrestati tre senegalesi, vendevano Ascisce e Marioana a giovanissimi, un tratto di rivera di Montesivano trasformato in centrale dello spaccio. Sotto la sabbia trovate scorte di stupefacenti. Poi ex Montecatini, siamo a Piano d'Orta, in Val Pescara, ex Montecatini diffida le imprese per la bonifica. Nulla di fatto dopo l'ultima riunione. Il Ministero ordina a Moligen l'abbattimento dei vecchi capannoni. In basso invece le parole dell'assessore comunale di Pescara, ma nel caso di specie parente delle vittime di Rigopiano, Simona Di Carlo, che dice dal Quirinale mi aspettavo di più. E appunto la sua delusione dopo l'incontro dell'altro ieri a Roma, appunto con il capo dello Stato. Avanti con le pagine aquilane. De Amicis, il Tar ribalta tutto. L'appalto deve restare a MGM. I giudici amministrativi hanno annullato la risoluzione del contratto con l'azienda. La sentenza è giunta proprio nel momento in cui il provveditorato stava affidando l'opera. Il colpo di scena nell'ambito di uno dei cantieri del centro storico maggiormente significativi. In basso, laureati e con figli. Impossibile reinventarsi a 50 anni. Incontro con i lavoratori da 10 giorni in presidio permanente alla regione. I lavoratori sono quelli della Intex. Proseguiamo. Reis Romoli nel mirino del Colosso cinese. ZTE starebbe pensando al complesso per il suo centro di ricerca. Nei giorni scorsi c'è stato un sopralluogo con i tecnici del Comune. L'intera area è ormai abbandonata dopo l'addio dell'Ateneo. Non si contano i furti. Ladri è più riprese a caccia del rame. Proseguiamo. Siamo ad Avezzano. Ridateci la cittadella dello sport. Giovanni Ceglie del Partito Democratico risponde al vice sindaco Cipollone sulla bocciatura del progetto. Duro intervento del segretario. Ceduta la realizzazione dell'opera a Pescara. Qui scompare tutto. Povera città. Nella polemica era intervenuto anche l'ex consigliere comunale Gianfranco Gallese. Siamo alle pagine di Chieti. Caso Stadio. L'ex amministratore del Chieti condannato per falso. Gammieri attestori acquisiti non veri per ottenere la gestione dell'Angelini. Si chiude in tribunale una vicenda che aveva scatenato tante polemiche. Il giudice monocratico Andrade Berardino infligge otto mesi la difesa. L'imputato non lesse ciò che stava firmando. E poi di spalla a Parco del Tricalle. I Lions donano la zona fitness. L'area verde intitolata Melvin Jones fu il fondatore del sodalizio internazionale. A vasto furti, a raffica arresti e denunce. I carabinieri acciuffano due ladri che stavano tentando di svaliggiare la pizzeria Il Gatto Pardo in via Euclide. In manette un vastese e un giovane di origini napoletane. L'ipotesi rubavano ai ristoranti per rivendere ad altri locali. Poi in taglio medio leggiamo oggi in Corte d'Assise d'Appello il processo per l'omicidio dell'ISA. Sul banco degli imputati c'è Fabio Dilello, già condannato a 30 anni di reclusione in primo grado. Pagina di Teramo. L'alunno disturba in classe, messo in un'aula da solo. Il minore è traumatizzato dalla morte del nonno e di una giovane parente. La mamma, prima di isolarlo da tutti, avrebbero dovuto sentire il nostro parere. Il piccolo frequenta una scuola primaria ed è stato lasciato studiare senza la presenza di altri bambini. In basso nascondeva l'eroina sottoterra, preso. La polizia lo ha visto mentre scavava per recuperare le dosi conservate in barattoli tra la vegetazione. Chiudiamo con le pagine del messaggero. Le pagine della cronaca, con questa notizia che arriva da Giulianova, un comitato ospedale si dimette Ludovico. Per la prima volta l'organismo voluto dal sindaco per ottenere un nosocomio di primo livello perde un pezzo. Credo nell'iniziativa ma vedo che le nostre proposte sono lettera morta e qui non si può più perdere tempo. Lasciamo il messaggero Abruzzo. Andiamo ora a sfogliare le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ma vediamo innanzitutto le pagine di Teramo città iniziando da pagina 4. Muore un mese dopo un tamponamento in A24. La settantenne ne era uscita indenne. Il giorno della vigilia di Natale ha accusato una emorragia cerebrale. Nonostante l'operazione al cervello fosse andata bene, la donna si è aggravata. Nei giorni scorsa è deceduta al Mazzini. Aperta l'inchiesta la vittima è una settantenne di Tevoli. Prima di Natale era diretta a Isola del Gran Sasso per passare le feste. Poi ancora tre feriti nell'incidente tra un bus e un SUV. Uno dei due mezzi non avrebbe rispettato lo stop del semaforo all'ingrocio tra Viale Crispi e Via Roma. Ormai in ospedale sono finiti il conducente del bus, il guidatore del SUV ed una passeggera ventenne caduta nell'autobus. Avanti a pagina 6. Eroina fra la vegetazione del parco. 31enne Teramano arrestato mentre cerca di recuperare un etto e mezzo di droga. Poi ancora dietro front sulla chiusura del palazzetto. Dopo le proteste il commissario convoca le televisioni e corregge il tiro. serve una gestione manageriale. Avanti ancora oggi iniziano i lavori al Pascal. Ricostruzione post-sisma si parte dall'ala con sei aule e dalla scalinata centrale. Sono invece iniziati l'altro ieri i lavori alla copertura dell'Istituto Superiore Zoli di Atri. Salvo il contributo per chi ha cambiato residenza, il comune di Teramo ottiene il chiarimento della protezione civile atteso da dicembre per 70 nuclei familiari. Poi ancora ricucire il legame tra città e Ateneo. Poi il candidato sindaco Alberto Covelli ne fa una questione di programma elettorale. Proseguiamo sempre qui con la politica PD. Prima il posto utile, poi i candidati a perdere. Braccio di ferro tra la dirigenza Teramana e la segreteria regionale sulle candidature. Anche nell'uninominale. E poi Forza Italia ad Arcore si ragiona anche su chiodi e gatti. Proseguiamo con il concorso da un po' di giorni in atto con la città in testa. Il concorso per il futuro sindaco di Teramo. Ci sono tre candidati in tripla cifra. Cavallari, Falconi e Lettieri fanno il vuoto. Valanga di voti in arrivo per Ponziani e Covelli. Tante new entry. Avanti ancora il degrado a Teramo. Nella città della bici ha abbandonato il bike sharing. Stazioni vuote e biciclette sgangherate. Ecco come si presenta il progetto vantato per anni dall'amministrazione. Ci sono alcuni scatti che ritraggono questo stato di abbandono del progetto. Nelle notizie dalla provincia. Quarto lotto. Scelto il progetto a sud del fiume. Migliore quella a nord ma troppo costoso per espropri e bonifiche. Il ponte sul fiume sorgerà all'altezza di via Cupa. Il quarto lotto della Teramo mare. Ieri pomeriggio ha convocato i sindaci interessati al progetto. Discussione molto breve visto che il tracciato sarà vincolato dai costi. Sul territorio di Roseto a Coste Lanciano previste anche meno uscite. Renzo Di Sabatino ha approfittato dell'incontro. Il presidente della provincia di Teramo per rappresentare il caso di Garrano. Poi ancora acqua sicura. Le sorgenti dovrebbero essere distanti chilometri. Nuovi documenti degli ambientalisti sulla convivenza tra acqua e laboratori nel cuore del Gran Sasso. Forum per le Acque e Soa presenteranno i documenti questa mattina durante una conferenza. Proseguiamo. Siamo a Martinsicuro. Mafia della Movida condannata la banda. 52 anni di Martinsicuro nel gruppo specializzato in estorsioni, rapine e droga. E poi ancora a Giulianova. Candidatura saltata. Mastromauro fatto fuori dal suo stesso partito. Altro che amore per la città. Dietro il ripensamento del sindaco le candidature imposte da liberi e uguali. I paracadutati li abbiamo visti in precedenza. Celeste Costantino, Calabrese che vive a Roma, Danilo Leva, Molisano, ex PD. Sono loro due a soffiare posti utili ai terramani, in particolare al sindaco di Giulianova. Sfumano tutte le possibilità di candidatura per Rosaria Ciancaione e Stefano Alessiani. Avanti e siamo a Roseto. Arrivano i fondi per la sicurezza sismica. Finanziamento da 1,2 milioni dal Ministero dell'Istruzione. A breve andrà a gara la realizzazione della scala antigenio per la scuola d'annunzio. E poi ancora sempre a Roseto. Accusa dei lavoratori dei servizi comunali messi sull'astrico dai tagli operati dal PD. I continui ribassi sui bandi di gara incidono su qualità dei servizi e stipendi. Siamo ora con la pagina dello Sport. Ecco qui, pagina 24. Si parla chiaramente di Teramo. Stand by, repetto. Federico dovrà aspettare. Ieri era previsto un incontro con Campitelli che però non c'era per l'arrivo del nuovo direttore. Tutto fermo in attesa dell'arrivo di un centravanti che possa garantire gol per la salvezza. Il diavolo deve ancora risolvere la questione che riguarda la sostituzione dietro la scrivania. Incontro rinviato tra il DS e il patron del Teramo. Trattative che sono ancora totalmente bloccate. Dunque il mercato è fermo. Per la palla a mano, Lions-Teramo un pari che sta di rimpianti a gancio mancato a Cologna. Prima di vedere centro e messaggero nelle pagine dello Sport, la parentesi con le tre testate nazionali. Vediamo le prime pagine e siamo alla gazzetta dello Sport. Spalletti sulle spine. Questa è l'apertura della Rosea. Inter dal mercato ai recuperi di A. La Champions passa da qui. Il tecnico aspetta risposte dalla società sui rinforzi richiesti. Oltre a Ramirez Pressing su Pastore. In avanti sta Regin Pole. Stasera deve guardarsi dall'attacco delle Romane. A proposito di Romane, ecco qui Lazio immobile. Fuori c'è la banda del gol. Roma-Gecovia sprint per Alex Vidal. E poi di spalla il duello scudetto. Digiuno pipita la medicina e l'Argentina pronto Buffon. E poi Amsic avvisa Verdi. Non gli dirò niente. Sentirà il San Paolo, visto che domenica c'è Napoli-Bologna. E ora il Corriere dello Sport. Con l'apertura vinciamo la Champions. Un'intervista al brasiliano della Juventus Douglas Costa. Sarebbe bellissimo conquistare la Coppa con la Juve. Abbiamo le qualità per farlo. Ho capito Allegri. Non mi fermo più. Di Bale è un amico. Il dribbling devo tutto. a mio padre. Sotto la testata Rebus Roma di Frainanzia. Geco o no? In Zaghi Lazio la grande occasione. Alle 18.30 Lazio-Udinesia. Alle 20.45 a Genova. Sampdoria-Roma. Di spalla Iunes il Napoli. Prova a prenderlo subito. E poi è tutto sport con questa apertura davvero particolare. E se vogliamo anche dissacrante. In evidenza l'allenatore del Napoli Sarri. No Sarri. No Cry. Come Bob Marley. Testa a testa entusiasmante con la Juve di Allegri. Ma il tecnico del Napoli continua con i piagnistei e con i lamenti. Dal calendario al gap nei fatturati. Dai terreni di gioco agli orari delle partite. Di spalla lavori forzati per il Toro che non corre. Recuperi Lazio e Roma. Derby Champions a distanza. Mercato Pastore. Avanti Inter. Bessa. Scatto Genua. Vediamo il centro con le pagine dello Sport. Intanto con questa intervista al difensore Antonio Mazzotta del Pescara. Io Zeman e quel no al Parma. Il terzino spiega il rifiuto dell'offerta di due anni e mezzo di contratto. Il boemo decisivo per la mia scelta. A giugno vedrò cosa fare. Venerdì conferma dell'undici di Foggia. In attacco il tridente Capone Pettinari Mancuso. Il Perugia aspetta le ali. E poi ancora altri passaggi di questa intervista. In particolare il rapporto con Zeman. Parla poco. In realtà non sta mai zitto. Mi dà sempre tanti consigli. Su Di Francesco. Eusebio Di Francesco. Uomo vero e allenatore preparato. Sa gestire il gruppo alla perfezione. Anche chi gioca poco gli vuole bene. Lo apprezza per la sincerità. E poi mercato e disgelo tra Sebastiani e il boemo. Il presidente convoca l'allenatore in sede per fare il punto sulle trattative. Per quanto riguarda la Serie C. Campitelli tratta l'uscita di Repetto. Si attende l'incontro tra i due per ufficializzare il divorzio dal direttore sportivo. E il conseguente ingaggio di Federico. In basso l'Aquila incontro società giocatori. San Nicolò valuta l'ingaggio di Faiola. Nel Francavilla torna a Zerbo. Direttanti Chieti e Giulianova assalto alla finale. Vediamo ora il messaggero Abruzzo. Ecco qui un'intervista al doppio ex di Pescara e Perugia. Giacomino Di Cara. Pescara e Perugia verifica da playoff. È chiaro che ti ferò il delfino. Ma attenzione. Tutte e due hanno ricominciato vincendo. Ma in questa stagione è difficile essere continui. Sul fronte mercato. Zampano a Udine è fatta. Si avvicina Macin. Poi in serie D l'Aquila. Chiodi tranquillizza la squadra. Notizie positive dall'Assemblea dei Socii. Faccia a faccia con il settore tecnico. E poi per la serie C. Teramo e Repetto. Divorzio in stand by. Non c'è stato il chiarimento tra il patron e il DS. Federico resta in attesa. Paladini oggi dirige la prima partitella. Camera non si è aggregato. Piace Mori dalla Triestina. E poi per il calcio a 5. Acqua e Sapone. Via Ricci. Perez è il nuovo allenatore. La squadra è seconda in classifica. Alle spalle della Luparense. Poi ciclismo. Giuliani punta ai giovani con la team MS Tina. È un progetto italo-romeno guidato dal team manager Leonardo Bevilano. Acqua. E poi in basso per il basket Roseto. Domenica ingresso gratuito con l'Orzi Nuovi. Finiamo qui con la rassegna stampa di Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti con il nostro notiziario. Con il TG6 delle ore 14, delle ore 19, delle ore 23. Io ne ringrazio in regia Claudio Di Giacomo. Ringrazio voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Ringrazio voi per la cortese attenzione. Ringrazio voi per la cortese attenzione. Ringrazio voi per la cortese attenzione. Grazie a tutti.